Per quanto riguarda la partita contro il Giovinazzo è stata una partita abbastanza tranquilla con ritmi bassi però comunque l'abbiamo affrontata con tranquillità. Il primo tempo eravamo un po' sulle nostre, un po' timidi anche un po' acciaccati dalla partita contro il Molfetta. Grande soddisfazione da parte della squadra dovuta alla tripletta di Giuseppe Corrado e niente, soddisfazione in tutto. Poi per quanto riguarda la femminile oggi inizieremo il nostro percorso formato da quattro concentramenti, oggi sarà il primo, in serata affronteremo il Montebello che è la squadra favorita per poi domani affrontare il Pesaro e i cugini di Falchi.